buongiorno a tutti buongiorno a tutti in particolare lo staff del settore patrimonio culturale salute vi ringrazia per essere presenti io sono claudia collina responsabile dell'ufficio valorizzazione del patrimonio culturale della regione emilia romagna del settore patrimonio culturale e qui con me o la responsabile degli affari legislativi chiara casari e con ambra del buono nel suo staff e vittorio ferrorelli giornalista e lo staff della valorizzazione del patrimonio culturale io vi ringrazio per la presenza e vendiamo cristina ambrosini la responsabile del settore patrimonio culturale per un saluto che si collegherà dall'esterno non appena potrà inizio io con un breve quadro e della situazione che vi espongo attraverso una condivisione di slide eccomi confermate che vedete le slide si vedono le slide claudia forse abbiamo perso il collegamento eccomi confermate che vedete le slide scusate mi si sente e vede ora si sentiamo grazie scusate ci dovesse stato un problema tecnico riparto con la condivisione della introduzione ecco allora per la rendicontazione abbiamo voluto anche fare un breve inquadramento di quella che è la legge e sulla salvaguardia e valorizzazione dei dialetti di cui voi siete stati per l'avviso per 2024 beneficiari e come sapete questa legge ha subito un'evoluzione anche di governance tra quello che avveniva tra la sua gestione all'istituto beni culturali e quella ora del patrimonio del settore patrimonio culturale e per questo anche desideriamo proprio presentarci a voi come staff che appunto gestisce questa legge non funziona ecco allora ho un inquadramento generale e bene ricordare che la convenzione appunto sulla promozione patrimonio del patrimonio materiale tra i quali c'è anche il linguaggio nasce nel 2003 nel corso della 32esima sessione della conferenza generale unesco e nasce dall'esigenza di individuare il cosiddetto intangible heritage, e assicurare misure di protezione nell'interrelazione tra le attività umane e l'ambiente circostante, nel contesto del professore Armondi, sia fisico che sociale, ratificata dall'Italia con la legge 167 del 27 settembre 2007. Recentemente, cosa molto importante e nuova, il governo italiano ha promulgato la legge del 7 ottobre 2024, numero 152, disposizione in materia di manifestazioni di rievocazione storica, e delega al governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ove al capo 2 appunto norma le disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, immateriale. I decreti legislativi di cui Alcoma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi. Promuovere e proteggere la diversità delle espressioni culturali e linguistiche presenti nel territorio nazionale, quale presupposto per la piena partecipazione di ogni persona alla vita della comunità e quale fattore di crescita e di arricchimento individuale e sociale. Questo è un principio che ci riguarda proprio direttamente. Mentre alcuni principi sono più, c'è un piccolo errore di digitalizzazione scusate, sono trasversali al nostro argomento, ossia garantire la trasmissione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle pratiche con valore tradizionale identitario. Quali espressioni della creatività umana nella comunità e nella continuità tra le generazioni e quali condizioni per uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita. Prevedere percorsi formativi, scolastici e universitari volti ad assicurare la consapevolezza delle più giovani generazioni rispetto al patrimonio culturale e materiale del proprio territorio e ad assicurare la trasmissione delle relative conoscenze. Promuovere l'accesso dei giovani al patrimonio culturale e materiale favorendo il loro inserimento e sostenendo la loro presenza nelle relative comunità. Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e materiale e favorirne la trasmissione tra le generazioni, in particolare mediante attività educative e formative di sensibilizzazione, disseminazione e promozione, realizzate anche con strumenti e supporti innovativi. Tutti argomenti che hanno ovviamente una ricaduta sulle nostre attività e che la nostra legge antesignana proprio rispetto a questa già prevede. Quindi in linea con queste riflessioni l'antesignana legge 16 modificata poi dalla legge 7 del 2020 ha la finalità del riconoscimento e dello sviluppo delle identità culturali e delle tradizioni storiche delle comunità residenti nel proprio territorio ai sensi dell'articolo 2,1 lettera C. Dello statuto la regione Emilia-Romagna salvaguardia e valorizza i dialetti dell'Emilia-Romagna nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio storico, civile, culturale e regionale e si adopera affinché tale patrimonio resti fruibile alle future generazioni attraverso la trasmissione delle sue diverse forme e manifestazioni. Altre azioni interventi sono appunto ai fini di quell'articolo 1 che abbiamo appena letto la regione promuove studi e ricerche, dialette locali, insomma quello che bene sapete e che avete fatto progettando le vostre attività rispetto all'avviso del 2024. A me interessava farvi vedere appunto la coerenza con la legge appena promulgata e l'antesignana legge dei dialetti numero 16 del 2014 e l'avviso di fatti che noi abbiamo redatto quest'anno fissava già attività finanziabili con alcune linee guida. Ecco linee guida che appunto sono state stilate e raccomandate in questo avviso e che noi speriamo veramente che voi abbiate tenuto in debita considerazione. Insomma per concludere questa breve presentazione il patrimonio culturale immateriale è un valore intrinseco fondamentale in conformità con la Costituzione italiana. Il patrimonio linguistico ha sempre avuto e ha un ruolo rilevante e importante nell'identità sociale e culturale sia di un territorio sia degli individui che lo abitano, aggiungo la comunità che lo abita e che lo vive attivamente. Per questo il patrimonio culturale materiale e immateriale diventa l'imprescindibile custode di storie, tradizioni, conoscenze che necessitano di essere tramandate, aggiungo le patrimonianze, che necessitano di essere tramandate vive alle generazioni future e il settore patrimonio culturale della regione intende appunto valorizzarlo adeguatamente con questa legge. Vediamo ora con Vittorio Ferroelli come comunicarne tutte le sfumature e il grosso lavoro che egli ha fatto sul sito dedicato a questo argomento. Grazie a tutti. Grazie, grazie Claudia. Allora anch'io condividerei le mie slide. Lo schermo è condiviso? Lo vedete? Perfetto. Allora, il mio intervento si concentra sull'aspetto della comunicazione. Innanzitutto mi presento molto brevemente, io faccio parte insieme ad altri colleghi del gruppo comunicazione che all'interno del settore patrimonio culturale si occupa tra le altre cose di gestire il sito web e i canali social collegati. Il gruppo è composto anche da Marielle Natosi, Carlo Tovoli, Emanuela Cristoni e Beatrice Orsini che cura appunto in particolare il versante dei social. Dunque io questa mattina comincerei facendovi vedere in breve dove si trova e come è strutturata l'area tematica del nostro sito che è dedicata ai dialetti. Con una piccola premessa necessaria, quella che vedrete è la configurazione attuale del nostro sito, ma non spaventatevi perché dal mese prossimo ne avremo una diversa perché la regione sta progressivamente passando a una nuova piattaforma web Volto che è ancora più aggiornata di quella che usiamo adesso alle esigenze di accessibilità e alle direttive dell'Agid, l'Agenzia per l'Italia Digitale. Quindi partiamo dalla nostra home page attuale e scorrendo verso il basso si trova la parte dedicata alle aree tematiche dove c'è quella dedicata ai dialetti. Probabilmente la conoscete già ma insomma ci sembra utile ripresentarvela molto rapidamente. Entriamo all'interno, questa è la panoramica della pagina e adesso andiamo a fare un po' di zoom sulle varie parti. Allora i box che vedete nella parte iniziale servono a dare conto in dettaglio delle varie attività regionali che vi riguardano e quindi la legge regionale 16 2014 che Claudia Collina ha citato con la sua descrizione. Poi il box sulla programmazione degli interventi che vi riguarda molto da vicino perché è quella che pubblica gli avvisi annuali riservati al finanziamento degli interventi. Poi c'è il box dedicato ai dialetti in vetrina che è una bacheca online aperta ai contributi di studiosi appassionati di dialetto e all'interno ci sono le spiegazioni per partecipare e pubblicare sul nostro sito i contributi a tema dialetto. Poi vedete una sezione che si chiama, qui si dice così, che è un piccolo viaggio a titolo puramente semplificativo all'interno dei dialetti che si parlano in Emilia Romagna attraverso dieci parole particolari appositamente tradotte con i riferimenti bibliografici. E infine la sezione risorse online che secondo noi è molto utile e abbastanza unica nel suo genere perché raccoglie tutto quanto si può trovare in rete sui nostri dialetti e quindi siti tematici, portali e testi di approfondimento, dizionari, molti dizionari dialettali sono online, video naturalmente e podcast audio che sono fondamentali per i dialetti, per l'ascolto dei dialetti. Ecco, delle risorse online ho fatto la scansione della pagina intera e l'ho messa in orizzontale, insomma per darvi conto proprio della ricchezza dei materiali che si possono consultare attraverso i link. La pagina poi si chiude con due strisce, una dedicata ai video, dei video prodotti naturalmente nell'ambito dei progetti finanziati dalla legge 16 2014 e poi naturalmente non può mancare una striscia dedicata ai podcast, sia i podcast prodotti da Radio Emilia Romagna sia quelli prodotti nell'ambito del progetto regionale magazzini sonori. Adesso andrei a dirvi rapidamente dove si trovano le notizie relative ai dialetti all'interno del nostro sito. Torniamo quindi alla pagina iniziale e qui le ultime notizie sono sempre visibili in evidenza nella parte alta della pagina. Qui vedete i box in genere sono 9, qui ne vedete 6. Se naturalmente volete vedere anche tutte le notizie pubblicate, quindi l'archivio delle notizie, basta scorrere in basso nella striscia via e cliccare sulle notizie. Le troverete tutte. Eccole qui. Ed ecco una delle notizie che abbiamo pubblicato quest'anno, probabilmente l'avete vista, quella sui progetti finanziati dall'ultimo avviso. Io concludo il mio intervento dandovi alcune indicazioni molto molto pratiche, due, quindi sono veramente facili anche da ricordare. Due indicazioni pratiche per fare in modo che il nostro gruppo comunicazione possa programmare nel modo migliore le notizie relative alle iniziative, agli eventi e ai prodotti dei vostri progetti. Non ho usato a caso il termine programmare perché, come vi renderete conto, le notizie e i post da gestire sul nostro sito sono molti, sono numerosi e quindi occorre per forza di cose lavorare con anticipo quanto più è possibile. Quindi la prima indicazione utile che vi diamo è di informarci per tempo, quindi con anticipo, degli esiti e degli eventi collegati ai vostri progetti. Come farlo? attraverso il nostro indirizzo email che è patrimonio culturale news chiocciola regione punto emilia trattino romagna punto it. In questo modo raggiungete l'intero gruppo. La seconda indicazione che vi do riguarda in particolare i social e in questo caso vi chiediamo di inserire sempre nei vostri post riferiti ai progetti i tag alle nostre pagine Facebook e Instagram in modo da averne traccia. In ogni caso per richieste o consulenze specifiche sui social potete fare riferimento alla collega Beatrice Orsini. L'indirizzo è beatrice punto Orsini chiocciola regione punto emilia trattino romagna punto it. Io direi di aver terminato e vi ringrazio per l'attenzione. grazie Vittorio. Prima di lasciare la parola alla dottoressa del buono volevo dire due parole anch'io e ringrazio innanzitutto i colleghi che ci hanno introdotto in questa parte così interessante rispetto a questa iniziativa che è di grande importanza e che il nostro settore sta seguendo con particolare attenzione. Già da diversi anni come avete potuto sentire dalle parole del collega Ferrorelli c'è una grande attenzione anche proprio agli esiti e risultati delle iniziative che voi realizzate sul territorio e il nostro settore è molto interessato a darvi una possibilità ulteriore di condividerle di condividere queste risultanze tramite i nostri strumenti di comunicazione. Altrettanto adesso passeremo alla parte diciamo più come dire corposa che riguarda la realizzazione anche amministrativa delle attività una parte che è come dire un male necessario affinché voi possiate con il nostro sostegno anche economico portare avanti i progetti che vi stanno a cuore e che quindi stanno a cuore anche alla regione Emilia Romagna e così come vi è stato rappresentato per quanto riguarda gli aspetti più come dire culturali delle vostre iniziative anche da questo punto di vista la collaborazione è sicuramente la parola chiave quindi vi invitiamo per qualsiasi problema necessità di chiarimenti di assistenza di accompagnamento a fare sempre riferimento a noi in modo particolare la dottoressa del buono come dire è il vostro riferimento c'è una mail dedicata di cui poi vi darà informazione più precisa e quindi come dire è il riferimento da utilizzare per qualsiasi problema avendo sempre presente il fatto che l'avviso rimane comunque il nostro documento principale quindi nell'avviso trovate i riferimenti normativi per realizzare i progetti ma che ci sono comunque delle ulteriori degli ulteriori edempimenti che devono essere sempre tenuti a mente perché dal punto di vista formale noi dobbiamo rispettare una serie di normative nazionali regionali eccetera e quindi di questo non dobbiamo mai dimenticarci per cui se ci fossero dubbi se ci fossero questioni che emergono durante il corso diciamo della realizzazione del progetto continuate a fare riferimento a noi tenete aperto un canale di comunicazione è sempre preferibile che eventuali questioni vengano condivise prima piuttosto che rappresentate solo in rendicontazione quindi quando ormai i giochi sono fatti magari abbiamo anche più difficoltà come dire a trovare una soluzione e quindi lascio la parola alla dottoressa del buono che vi rappresenterà una volta ancora quelli che sono come dire gli step fondamentali per arrivare a presentare una rendicontazione corretta sicuramente in questo ambito la precisione è come dire un elemento essenziale vi chiediamo di fare attenzione anche i dettagli perché sono importanti grazie mille grazie chiara allora come appunto ha già detto la collega io sarò il vostro punto di riferimento per questa parte meno divertente diciamo che la parte della rendicontazione vi condivido delle slide in maniera tale che abbiate anche più presente tutti tutti i punti che che saranno il fulcro di del mio intervento le slide le vedete spero di sì ok allora ci concentriamo principalmente sui punti 4 e 13 dell'avviso per il sostegno ai progetti finalizzati a promuovere e sostenere la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti dell'emilia romagna di quest'anno perché sono i punti che riguardano appunto tutta la parte della rendicontazione che affronterete a breve quest'anno la rendicontazione verrà effettuata su una piattaforma che si chiama elixform che è la stessa sulla quale avete già agito per inviare le domande di partecipazione a questo avviso e lo vedremo in seguito come si dovrà svolgere appunto la richiesta di erogazione del contributo su questa piattaforma e vedremo anche un po' la modulistica che abbiamo già messo a disposizione sul nostro sito partiamo appunto col parlare delle spese ammissibili e non ammissibili quindi quali sono le caratteristiche generali di queste spese riferendoci in particolare al punto 4 dell'avviso sono chiaramente le spese che andrete ad affrontare o che avrete sicuramente già affrontato che riguardano il progetto la realizzazione del progetto quindi direttamente collegate e chiaramente funzionali al progetto devono essere riferite all'arco temporale dell'organizzazione e della realizzazione del progetto quindi le date sono dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 la cosa particolare che incontriamo nelle spese nella documentazione è questa cioè quando andate a presentare a noi tutte le spese relative alla vostra rendicontazione i documenti che devono essere ovviamente fiscalmente validi possono essere datati o emessi fino al 15 febbraio 2025 ovviamente quando si parla di 15 febbraio 2025 per quanto riguarda la datazione le attività che andranno fatturate devono essere comunque riferite al progetto e dovranno essere concluse il 31 dicembre 2024 ovviamente dovranno essere al netto di bolli imposte e di qualsiasi altro onere o commissione la regione Emilia Romagna soprattutto per quanto riguarda i bolli non non sono rimborsabili sostanzialmente vi voglio ricordare quando deve essere apposta la marca da bollo quando si tratta di spese che non sono soggette ad iva e quindi sostanzialmente quelle spese che non hanno l'iva devono essere accompagnate dalla marca da bollo che di solito è di 2 euro e sono anche quelle spese che hanno degli importi superiori a 77 euro e 47 centesimi la marca da bollo può essere ovviamente sia in formato cartaceo che in formato elettronico e quando andremo andrete poi a caricare tutte queste spese all'interno della del nostro della piattaforma di elix forms ci dovranno essere ovviamente accompagnate ci sarà la possibilità di farlo sul sito dalla dichiarazione del rappresentante legale appunto da rendere direttamente in piattaforma passiamo alla tipologia stiamo parlando sempre di spese ammissibili sono ammissibili le spese di carattere generale e organizzativo con un unico limite l'importo non dovrà essere superiore di queste spese di carattere generale organizzativo al 20 per cento delle spese ammissibili quindi questo è un calcolo che dovete tenere bene a mente le spese generali e organizzative sono quelle di segreteria i materiali di consumo servizi postali personale non volontario pulizia e sanificazione guardiania commercialista e le varie consulenze e le collaborazioni esterne di tipo organizzativo e amministrativo poi ci saranno le spese per ospitalità chiedo scusa dei relatori dei ricercatori degli esecutori del progetto comprensive di alloggi e passi le spese di viaggio quindi biglietti di treni di autobus eventuali aereo pedaggi autostradali anche per il personale proprio o volontario ovviamente si dovrà trattare di attività sempre connesse al progetto poi abbiamo i compensi e rimborsi professionali e qui torna di nuovo il tema della marca da bollo a cui dovete fare molta attenzione e infine ci sono le forniture di bene servizi che non devono riguardare beni durevoli che vanno ad incrementare in qualche modo il patrimonio dell'ente quindi per esempio l'acquisto di personal computer o attività di comunicazione e promozione e poi ci sono i diritti sia e che sono ancora spese ammissibili e il noleggio delle attrezzature abbiamo dopo le spese non ammissibili le spese non ammissibili sono quelle relative all'ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili la guardiania le varie utenze l'approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita le spese assicurative che sono relative agli immobili le spese di acquisto come abbiamo detto poco fa di beni strumentali durevoli che vanno ad incrementare il patrimonio dell'ente non sono considerate spese ammissibili la quantificazione economica del lavoro volontario le erogazioni liberali i contributi economici o le quote associative gli interessi le commissioni bancare e gli altri oneri per le operazioni finanziarie tutto questo lo troverete ovviamente spiegato e scritto bene sempre al punto 4 dell'avviso facciamo una precisazione per quanto riguarda le spese di carattere generale organizzativo e le spese del personale dipendente comprensive di spese di viaggio alloggio per quanto riguarda gli enti pubblici in questo bando le spese non sono questo tipo di questa tipologia di spesa non è considerata una spesa ammissibile al punto 13 dell'avviso affrontiamo quella che è la parte relativa proprio alla rendicontazione delle spese che avete sostenuto durante quest'anno e quali sono le modalità e i termini allora entro il 28 febbraio 2025 dovranno essere pervenute tutte le rendicontazioni relative ai progetti abbiamo detto che quest'anno la grande novità rispetto agli altri anni è che la richiesta di erogazione del contributo e quindi anche tutto ciò che la riguarda eventuali documenti che dovranno essere allegati verrà effettuata sull'applicativo web lx4 quindi sarà tutto telematico tramite questo applicativo e una cosa importante che vi voglio ricordare sono soprattutto le firme le firme potranno essere digitali e quindi in quel caso non ci sarà bisogno di nessun accompagnamento di eventuali documenti di identità altrimenti se andate andrete a firmare la rendicontazione o meglio la richiesta di erogazione del contributo comprensiva della rendicontazione autografa in maniera autografa dovrete farlo proprio stampando firmando e scansionando quel documento per ricaricarlo con quella firma quindi non apponendo invece immagini con eventualmente le vostre firme le firme delegare il rappresentante o da chi è delegato a presentare appunto la richiesta di erogazione con in quel caso la delega. Di che cosa si compone la richiesta di erogazione del contributo? Ci sarà una parte dedicata alla relazione conclusiva in cui appunto dovrete descrivere le attività in maniera molto puntuale che sono state realizzate ovviamente durante nel corso di questo 2024 per la realizzazione del progetto. Dovrete essere molto chiari sulla correlazione tra le attività e i costi per i quali che presenterete il rendicontazione e per i quali otterrete il contributo. Il rendiconto delle spese l'ho già detto un paio di volte sarà su questa piattaforma e ci sarà la possibilità di caricare lì le eventuali fatture ma ci sarà anche un file Excel. Su questo file Excel sarà possibile inserire l'elenco di tutti i documenti fiscalmente validi ed indicare per ogni documento il numero, la data di emissione, la descrizione analitica della spesa, la ragione sociale dell'intestatario e del destinatario del documento nonché l'importo in maniera tale che anche sul file Excel sia possibile per noi andare a verificare e avere sostanzialmente una rappresentazione nell'insieme di tutte le spese che avete affrontato per la realizzazione del progetto. E poi ci sarà una parte dedicata alla copertura finanziaria e al bilancio consuntivo. Successivamente andrò a farvi vedere anche quello che è il file Excel perché abbiamo cercato di semplificarlo il più possibile per darvi la possibilità di compilarlo in maniera semplice e puntuale. Allora dovranno essere allegati come gli altri anni ovviamente per i soggetti privati la dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto. Questa dichiarazione, questo modulo è stato messo a disposizione sul sito nella parte che riguarda la modulistica relativa alla rendicontazione e dovrà essere compilato nella parte che riguarda il provvedimento di concessione che è esattamente questo qui, il 19.510 del 23 settembre 2024 e dovrà essere inserita la data di compilazione. Vi faccio solo un appunto, quando andrete a compilare questo modulo è molto importante che sia compilato in maniera corretta non solo per quanto riguarda ovviamente le firme che come abbiamo già detto che devono essere o digitali o se autografe scansionate ma con i relativi documenti di identità in corso di validità. Ma di fare attenzione proprio alla data perché spesso ci è capitato di ricevere dei moduli non compilati per quanto riguarda la datazione. Poi ci sarà come vi dicevo poco fa il modulo in formato Excel che vi andrò a illustrare successivamente dove ci saranno tutti i dettagli dei documenti fiscalmente validi. Ci saranno anche le istruzioni nel file Excel. La richiesta di liquidazione che poi è il nostro rendiconto delle spese dovrà tenere conto di quel limite di cui vi parlavo prima soprattutto per quanto riguarda le spese di carattere generale e amministrativo che non devono superare la soglia massima del 20% delle spese ammissibili. Le tipologie dei documenti di spesa si distinguono in un certo senso in alcuni casi per i soggetti pubblici e per i soggetti privati. Come potete vedere per i soggetti pubblici c'è l'atto di liquidazione, la fattura, l'F24, le parcelle, le ricevute fiscali, gli scontrini che devono essere parlanti cioè quindi accompagnati anche da una dichiarazione che possa permetterci di correlare lo scontrino fiscale all'attività che avete svolto in merito al progetto, la quietanza per i premi assicurativi e le affissioni pubbliche, il mandato di pagamento e la ricevuta economale. Per i soggetti privati abbiamo sempre le fatture e gli F24, le busse paga nelle quali ci dovrà essere inserito il timesheet che vedremo nella prossima slide, vi spiegherò esattamente cos'è, la parcella, la ricevuta fiscale, le varie note di prestazione occasionali, in questo caso vi ricordo nuovamente i bolli anche se sarò ripetitiva, lo scontrino fiscale parlante, la quietanza anche qui per i premi assicurativi e le affissioni pubbliche e i rimborsi chilometrici che vi ricordo sono rimborsabili fino a un massimo di 500 euro a progetto. Ecco, quando si parla di busse paga, nelle busse paga dovranno essere messe in evidenza per quanto riguarda appunto il personale dipendente impiegato nel progetto e i timesheet, cioè ci dovrà essere una dichiarazione del costo orario lordo e accompagnata la bussa paga da una lettera nella quale il rappresentante legale ci illustra come viene effettuata il conteggio delle ore relative in cui appunto il soggetto è stato dedicato al progetto, quindi con un eventuale elenco anche delle attività e del tempo previsto per la loro realizzazione in termini di ore dedicate. Cioè, noi lo chiediamo perché vogliamo capire all'interno di tutte le spese che ci sono all'interno, tutte le voci che ci sono all'interno delle busse paga come è stato calcolato il compenso del personale dipendente in merito al progetto. Tornando al punto 4 dell'avviso perché eravamo passati al punto 13 il periodo di elegibilità è quello che vi dicevo all'inizio cioè la possibilità che i documenti giustificativi di spesa possano essere datati fino al 15 febbraio 2025 ma come vi dicevo dovranno essere comunque le spese si dovranno comunque riferire ad attività concluse il 31 dicembre 2024 quindi riferite al progetto. Che cosa succede nella fase di istruttoria? Quindi noi che cosa andremo a verificare una volta che si sarà chiusa la possibilità di fare sulla piattaforma web Elixform la richiesta di contributo con la rendicontazione ci sarà un esame da parte nostra della documentazione che ci avrete allegato e la possibilità di richiedere da parte nostra eventuali integrazioni o chiarimenti andremo ad identificare le spese ammissibili e quelle non ammissibili e ci potrebbe essere una rideterminazione del contributo eventuale. I tempi per le integrazioni di solito sono 10 giorni ovviamente avverrà tutto tramite le forme istituzionali quindi ci sarà una formale richiesta di integrazione e verrà indicato il termine entro il quale dovremo ricevere risposta e da quest'anno andremo anche a verificare faremo un ulteriore controllo sulla situazione di regolarità contributiva nei confronti dell'IMSS e dell'INAIL come vi dicevo c'è la possibilità eventuale di rideterminare il contributo allora se diciamo viene speso si resta entro il limite del 20% in meno rispetto alla spesa ammissibile preventivata allora al contributo non verrà applicata alcuna rideterminazione e verrà confermata la somma che vi è stata assegnata qualora invece ci sia uno scostamento superiore a questa sorta di soglia di salvaguardia del 20% il contributo in questo caso verrà rideterminato e verrà rideterminato ovviamente attraverso una riduzione del contributo pari alla soglia che cede il 20% o meglio pari alla differenza in termini percentuali tra il costo che avete preventivato e il costo che invece avete rendicontato ovviamente per la sola parte che cede la soglia di salvaguardia poi ci sarà un'eventuale revoca del contributo nel caso in cui appunto si andrà a spendere meno delle soglie minime di accesso di cui al punto 8 dell'avviso questa parte qui riguarda le eventuali entrate riferite al progetto che se sono superiori ovviamente alla soglia rendicontata determineranno una riduzione del contributo nella misura necessaria a raggiungere il pareggio nel caso in cui le entrate invece dovessero superare le spese di un importo uguale o superiore al contributo regionale il contributo stesso non avrebbe senso di essere assegnato e quindi verrà revocato una parte importante è questa le verifiche amministrativo contabili tenete presente che tutta la documentazione relativa alla rendicontazione del progetto dovrà essere conservata da parte vostra per almeno 5 anni perché la regione può procedere a delle verifiche amministrative o contabili anche a campione proprio chiedendovi l'accesso a questa documentazione che deve essere conservata presso i vostri uffici i soggetti beneficiari ovviamente sono tenuti a consentire le attività di controllo e a tenere a disposizione questa documentazione relativamente alle spese ammesse a contributo io vi ringrazio, questa è la fine della mia presentazione per l'attenzione ma vi trattengo veramente altri due minuti per mostrarvi il file Excel sul quale dovrete inserire il dettaglio delle vostre spese dopo guardiamo se ci sono delle domande come vedete il file Excel è impostato in questo modo non so se vedete il mio schermo c'è la tipologia di spesa le altre colonne che riguardano i giustificativi la data, la tipologia di giustificativo di spesa la denominazione, l'importo, l'IVA e il totale abbiamo tracciato una linea per quanto riguarda per distinguere poi quelle che sono le spese di carattere generale e organizzativo in maniera tale da potervi dare la possibilità di verificare che le spese di carattere generale e organizzativo non superino il 20% del totale delle spese ammissibili quindi quando il totale sarà verde la cella si colorerà di verde vuol dire che siete all'interno della soglia se si colorerà di rosso ovviamente è un chiaro allarme perché è stata superata la soglia del 20% le altre spese sono state inserite per io ho inserito delle spese qui come vedete all'interno delle colonne per darvi un esempio c'è la possibilità di selezionarle così non si sbaglia direttamente da un menu a tendina come vedete sono qui qui abbiamo distinto tutte le spese di carattere generale e organizzativo e qui invece ci saranno tutto il resto delle spese che sono previste ovviamente all'interno dell'avviso in ogni caso anche per quanto riguarda la colonna D quella della tipologia del giustificativo di spesa sarà possibile selezionarle per vostra facilità direttamente da un menu a tendina come vedete si apre il menu e voi potete selezionare la tipologia di spesa che vi interessa inserire ci sarà la possibilità di inserire anche altro che non sia compreso infatti c'è qui la dicitura altro per quanto riguarda la tipologia di spesa e vi chiediamo in questo caso di andare a nella colonna K delle note e di andare a farci capire che tipo di spesa state inserendo all'interno del file Excel in ogni caso come vi dicevo c'è sempre il foglio delle istruzioni che è questo foglio qui in basso e ci sarà tutta la spiegazione per compilare correttamente il file Excel io ho concluso il mio intervento spero di essere stata il più chiara possibile in ogni caso come diceva anche la mia collega è sempre possibile inviarci delle domande dei quesiti alla nostra mail con la quale vi ho scritto anche per invitarvi a questo webinar che è dialetti-regione.emilia-romagna.it tutta la documentazione che dovrete compilare vi ripeto è sul nostro sito c'è proprio una parte che si chiama modulistica per rendicontazione e vi ringrazio per l'attenzione sì c'è una domanda Ambra ci chiedono come ente locale affidato il servizio ad un soggetto esterno potrò allegare l'atto di liquidazione del mandato di pagamento è sufficiente allora si può allegare questi documenti è sempre bene allegare anche la fattura e il pagamento deve essere quetanzato quindi direi mandato di pagamento quetanza quello che è disponibile se ci sono altre domande potete inserirle in chat magari aspettiamo un minuto per vedere se volevo chiedere se può essere consentita la codocenza anche se non specificata in fase di progetto variazioni diciamo non sostanziali al progetto che non ne variano la natura l'obiettivo e i termini anche economici di realizzazione sono comunque sempre consentite cioè non mi pare che sia una una variazione sostanziale questa anzi se arricchisce ulteriormente il progetto perché no l'acquisto di libri da consegnare ai ragazzi che partecipano al progetto è ammesso vuoi rispondere tu Ambra? sì sì se riguarda le attività e quello che prevedeva il progetto sì è un costo ammesso assolutamente ci chiedono da quando sarà disponibile la piattaforma Alex Forms allora mi sentite? sì allora la piattaforma Alex Forms sarà disponibile da gennaio quindi dal 2-3 gennaio se non erro ah ecco una cosa che mi sono appena ricordata e che vi voglio ricordare riguardava proprio la data da inserire sul modello IRIS mi raccomando non inserite una data del 2024 ma del 2025 perché la richiesta di erogazione di contributo l'anno in cui viene fatta la richiesta di erogazione di contributo deve essere quello in cui poi il contributo verrà liquidato ecco perché non non inserite una data del 2024 ecco bene direi che se non ci sono altri quesiti possiamo chiudere qui no è appena arrivato un post compensi ad associazioni che collaborano come tutor a ragazzi che operano all'interno del progetto è ammesso sono in domanda risposta compensi ad associazioni che collaborano come tutor a ragazzi che apre all'interno del progetto non mi ricordo se abbiamo messo fra le spese non ammissibili trasferimenti ad altre associazioni mi sa proprio di no perché io lo metterei questa tipologia di spesa fra le non ammissibili erogazioni liberali contributi economici o quote associative secondo me no no mi sono ricordata un altro piccolo appunto da farvi come diceva Chiara sono ammesse le variazioni che non siano sostanziali al progetto lì dove ci dovessero essere invece delle variazioni sostanziali e che potrebbero determinare o meglio che determineranno sicuramente la non concessione del contributo o nel caso in cui voi vogliate qualcuno di voi voglia rinunciare formalmente al contributo perché si verifica un impedimento alla realizzazione del progetto questa comunicazione non dovrà essere effettuata tramite mail ma dovrà essere effettuata tramite posta elettronica certificata quindi scrivendo al nostro indirizzo patrimonio culturale chiocciolapossacert.regione.emilia-romagna.it arrivata un'altra domanda qual è il percorso per la modulistica per la rendicontazione? allora il percorso per la modulistica della rendicontazione è all'interno ovviamente della parte dedicata ai dialetti che prima ha illustrato il collega Ferrorelli allora adesso vi dico ancora meglio c'è la parte della programmazione degli interventi per la salvaguardia dei dialetti dell'Emilia-Romagna adesso vi condivido di nuovo lo schermo così è più facile e potete seguirmi un po' più facilmente quindi siamo torno un attimo indietro siamo qui nei box che ha presentato Vittorio poco fa ci sono programmazione degli interventi poi c'è piano 2024 quindi tutto ciò che riguarda l'avviso di quest'anno e qui di lato in questa sezione c'è la possibilità di scaricare sempre l'avviso ci sono gli esiti e c'è la modulistica per la rendicontazione che si compone come dicevo prima dal modulo Ires e dall'elenco dettagliato delle spese che dovranno poi essere allegate questi due moduli compilati correttamente nella piattaforma sì sempre in questa sezione caricheremo il link per accedere alla piattaforma quando sarà pronto l'ambiente nel quale andrete a caricare effettivamente le domande di erogazione del contributo grazie a voi grazie mille per l'ottimo lavoro svolto e per il supporto grazie a voi allora se non ci sono altre domande possiamo chiudere qui grazie ancora e ovviamente la registrazione del webinar come diceva il collega sarà disponibile sul nostro sul sito dedicato ai dialetti buona giornata grazie a tutti arrivederci grazie a tutti